audiofili giochiamo con i super audio audiofili giochiamo con i super audio basta avete visto i guarnieri della notte annuncio importante questo weekend ci arriveranno altri super audio questo è quello di brothers in arms che abbiamo subito il negozio questo è l'unplugger di eric lepton numerato limitato e questo accode gli student e cia faremo un settore tutto dedicato ai super audio cd e fine settimana vi annunciamo che avremo delle nuove uscite già edile da qualche mese di chris bellman bernie grudman e kevin gray i titoli sono e lo supreme di john coltrain acqua lunghe stand up dei genro tal quindi sarà soltanto l'inizio lo facciamo anche perché così vi evitiamo che voi li compriate nei stati uniti spendendo una cifra enorme seguiteci seguiteci ne vedete le belle faremo è soltanto il primo passo per creare un settore audio file di altissimo livello